eccoci qua pronti per un altro episodio di Fasmofobia si spena che sia un episodio fattuale e oggi andiamo torniamo a rigi più consiglio anche di vedere gli altri episodi vi lascio il link e vi lascio un avviso in alto a destra della playlist gli episodi di Fasmofobia ma chi è delinquente che ha messo solo due torce no prendi la prendi la che tu sembrava fare foto serve la foto foto ok si si perché poi tocca fai la foto al coniglio ero io all'attacco ma che è questo che è questo che ci regala alcune cose di livello 1 ovviamente ma devo fare la foto no ok allora adesso a qualcuno con lui vi cominciano a girare e cercare le impronte del coniglio intorno ai nidi vi vedete le vedrete non è qui quindi perché iniziano sempre da una parte qualche capita dove non c'è qua ragazzi una volta ecco lì continui a girare e torni sui tuoi passi sempre con l'uv e qua dove vai? io? io? no è Matteo vabbè però continua vedi se qua c'è qualcos'altro ecco ecco è ritornato su ho sentito è qua è nel bagno qua 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 apri qua no 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 buttalo è fatto è fatta è fatta è fatta è fatta è fatta è fatta venire da sotto al piano terra e che mi sa che la stanza è dove star piano forte perché ha acceso la luce e ha sonato po' po' o hoo vedi ha fatto un'altra volta allora to' che prende come al solido delle telecamere. spostate oh sta a scrivere oh tacchino tacchino o nino prendi lo spirit box frate eeeh ne me f e... interviamo metto i sane oh ci ha camminato oh sale sale se ve ne andate provo a parlare non voglio nulla ha provato a cacciare già? vado a pie l'altro ma andate bene e gli parlo spero ho visto qualcosa di ridere vai vai e gli parlo forse ho visto delle robure di voce forse ha risposto che ha detto? mettiti in salvo Matteo intanto fa cose che fai le foto giri perché stavo guardando a bacheca ho visto il pari a foto io si cioè in crocifisso dove lo metto? sembra andato qui qui sul tappeto cuori 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 cazzo cuori 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 Ma chi è morto? E' Zennaro, guardalo lì! Povera stella! Ma dov'è il crocifisso? No! Non l'ha buttato di terra? Si, l'ha messo che eroe! Oh! MF5 MF5 Comunque si è arrivati prima dell'apparizione e poi mi ha fatto caccia perché ero rimasto da sole e c'era la sanità bassa. A posto, rega, allora hanno spirito. Bene, bene, bene. Pericoot. Eccomi. Io so troppo forte, rega. Allora, guardate! Allora, guardate! Penso a cercare la roba del cuore. Oh! Globo di luce qua! Dove? Qua, di fronte a me! Qua, di fronte a me! Ah, si? Si, si! Figlio di buonare! La notte di coglione! Qui dietro? Sento dei passi qua! Qua! Oh, ma perché non muovete? E' scappato, è scappato! E' scappato! Cazzo! Oh, cazzo! Si è bruciato, eh? Oh, cazzo! Scritto sul libro! E poi, scusa, scrivi ma non cammini su un staglio, non è che è un veicolo! No, no, non può! Non so queste, provi! Ah, ok! No, no, no! 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 E' altanto perché questo precipisso vale due! Ah! Da che una ganta... ...messere... ...messere... ...na su... ...di snub! ...accia sanno! ... 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